Grossa occasione per il Verona già al 14esimo, in azione Paolo Rossi, Cross respinge Pellegrini, riprende di testa Di Gennaro, poi Elkier, Bruni solo tira ed è lo stesso Pellegrini a salvare sulla linea con Bistazzoni che infine para. Il gol della Sampa al ventesimo, intelligente lancio di Paganin per Vialli che vola verso la porta giallo-blu e Giuliani, forse dimentico degli occhiali, anziché la palla artiglia le tibie dell'attaccante. Delia decreta il rigore che lo stesso Vialli trasforma, ecco il suo tiro, 0 a 1. Trentesimo, calcio d'angolo di De Agostini e Galia con uno splendido stacco di testa in sacca, 1 a 1. Ripresa, il Verona cerca la vittoria con un attacco dietro l'altro, al 66esimo Pacione che aveva sostituito l'infortunato Elkier viene maltrattato in area, poi il Verona continuerà ad attaccare ma gli ospiti non si lasceranno più sorprendere. Linea a Paolo Valenti.